E' tuo, Fernando. Sono incinta di te. Tutto quello che so è che ho paura. Ho paura di affrontare tutto questo da sola. John, non è mai troppo tardi. Se accetti Cristo nel tuo cuore e non ti accosti più al peccato, Lui ti perdonerà e ti darà la salvezza eterna. Ti darò Fibonacci quando sarà il momento giusto. Quel momento è adesso? No, il momento è quando saremo entrambi fuori da queste mura. Uscirò da qui un giorno e quando sarò fuori, non credo che mi sarò dimenticato come sono fatte le vostre scale. Sai, mi rimandano indietro. Quante volte te lo devo dire, tu hai solo una cosa che mi serve. Ho delle cattive notizie, Charles. Tua figlia ha un cancro all'esofago e vuole vederti finché c'è ancora tempo. Quanto le rimane? L'ospedale dice una settimana. L'ospedale dice un cancro all'esofago e vuole vederti finché c'è un cancro all'esofago. L'ospedale dice un cancro all'esofago. L'ospedale dice un cancro all'esofago e vuole vederti finché c'è un cancro all'esofago. L'ospedale dice un cancro all'esofago e vuole vederti finché c'è un cancro all'esofago. Ho letto da qualche parte che il vero Taj Mahal sembra rosa la mattina, biancolatte la sera e d'oro quando splende la luna. Cambia, dicono, per rappresentare le differenti emozioni di una donna. Se non riusciamo a ripararlo entro stasera, non voglio sapere che tipo di emozione proverà mia moglie se entro da quella porta a mani vuote.